Prima Italo Bocchino, la Meloni che appunto ha parlato, lo dicevamo all'inizio, di nazionalismo, patriottismo. Ieri sera però intanto è stata celebrata da Elon Musk con battute e complimenti reciproci. La Presidente del Consiglio, possiamo dire che passa con una certa disinvoltura dalle carezze di Biden alle complicità con un uomo molto discusso, molto controverso, un uomo più ricco del mondo, supertrampiano come Elon Musk dall'amicizia con Orban e Vox, alle intese invece con Ursula von der Leyen. Aiuta e serve quindi a essere in politica un camaleonte? Io trovo più strano il rapporto privilegiato con Ursula von der Leyen o con Biden. La Meloni è una politica di destra e quindi si trova bene con quelli di destra. In America c'è una destra e un centro-sinistra rappresentati da Trump e dalla Harris e la Meloni ovviamente ha più simpatie per Trump. Poi è ovvio che un paese pulce come l'Italia non può certamente ignorare il Presidente degli Stati Uniti che fino ad oggi è stato Biden. Ma io non trovo niente di strano che la Meloni si accompagna a Elon Musk e Elon Musk non è mica un criminale internazionale, è un grande imprenditore, ha delle idee strane, dei comportamenti strani, altri meno. Io lo trovo pericoloso come tutti i padroni dei social media, anzi credo che sia un po' più pericoloso di lui Zuckerberg che ha confessato davanti al Parlamento di avere censurato scientemente per anni notizie sgradite a Biden. Soltanto che stando nel campo democratico è considerato un buono. Io penso che in quel mondo lì di buoni non ce ne siano e penso che sia ancora più grave di quello che dice e fa Musk e quello che ha fatto Zuckerberg. E penso che se Musk si fosse schierato anziché con Trump con Kamala Harris, magari al seguito di quelle canaglie di Dick Cheney e di sua figlia che sono le anime nere delle guerre di sterminio in Afghanistan e in Iraq, nessuno lo toccherebbe. Mi meraviglio della meraviglia. Con chi dovrebbe accompagnarsi la Meloni? Grazie.